Sono passati 37 anni dalla sua chiusura. Da ieri la chiesa San Francesco di Paola, detta do Santu Pace, è nuovamente accessibile. La chiesa fu edificata nel 1738 ad opera dei padri minimi. Fu chiusa nel maggio del 1979 a causa del cedimento del pavimento e di infiltrazioni d'acqua. Grazie ai lavori di restauro del Fondo Edifici di Culto, proprietaria dell'immobile e della sovrintendenza, ieri con una solenne celebrazione eucaristica preseduta da Monsignor Rosario Gisana, la chiesa è stata riconsegnata alla città. Si tratta di un bene artistico e spirituale molto importante. In tantissimi ieri, fin dalle prime ore del mattino, hanno assistito all'apertura. Tanti i marinai e gli ex allievi delle suore figlie di Sant'Anna che hanno varcato il portone con nostalgia, ricordi e lacrime. Nella chiesa sono state esposte le antiche statue e ligne di San Francesco di Paola, Sant'Upace, e di San Nicola da Mira o Bari, la tela di San Giovanni di Dio e la tavola di San Francesco di Paola. E vivo ancora il culto a San Francesco di Paola che fino agli anni 70 veniva festeggiato con la processione e la varchiata lungo la costa gelese. E questo per me è un evento importante non solo per una riappertura in sé, ma perché dà speranza alla città. Noi vogliamo che questa città riviva in una maniera splendida, come di fatto è ogni gelese. Il Signore veramente possa, attraverso questo piccolissimo segno, far capire che qualcosa sta davvero agendo nella nostra città, nel nostro territorio, che è l'agire della grazia di Dio, l'irruzione del regno della sua signoria di misericordia in un tempo in cui ci si prepara alla venuta del verbo. La chiesa affidata a Donnalino di Dio sarà utilizzata per l'adorazione eucaristica permanente e per le attività di carità svolte dalla piccola casa della misericordia. Avviata una sottoscrizione per l'acquisto dei banchi ed il restauro delle due opere danneggiate, la pala dell'Immacolata Concezione e la tela della Madonna della Grazia o del Lume.